Un convegno sull'abbandono sportivo degli adolescenti lancia la terza edizione di Extra per lo Sport raccontare le buone notizie, il premio giornalistico per testate nazionali di Marche e Toscana per tv e radio, carta stampata, web e blog. Un contratto da 20 milioni molto green è stato stipulato da Centria, la società di distribuzione del gas con BNL e gruppo BNP Paribas, le cui condizioni di finanziamento sono legate alle prestazioni ambientali del gruppo Extra. Anche Extra era ad ExpoMove, la rassegna sulla mobilità sostenibile. Il gruppo vende bici elettriche a Atala nei suoi store e ha installato 15 colonnine nelle Marche e in Toscana per la ricarica dei veicoli elettrici. Dal 1 aprile Murgia Reti Gas gestisce la distribuzione di metano in 10 comuni pugliesi delle province di Bari e Foggia. Murgia fa parte del gruppo Extra ed è controllata al 100% da Centria.